La WWE ha annunciato un incontro speciale e nuovo per la Royal Rumble di cui non sappiamo niente, se non il nome. Si chiamerà Peach Black Match e ce l'ha detto attraverso il video che potete recuperare sul profilo Twitter della federazione. Lo state vedendo ora a schermo, non posso cliccare play per motivi di copyright, ma cosa c'è dentro? Beh, ci sono immagini delle arene in cui si spengono le luci, poi c'è un lottatore avvolto nell'ombra, sembrerebbe Edge, qualcuno dice può essere Bray Wyatt, con i telecronisti americani che rimarcano come all'interno di questa battaglia possa accadere di tutto. Chissà di che si tratta, amici, chissà cosa c'è sotto. Voi avete qualche idea? Beh, condividetela con me nello spazio dai commenti.